buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video oggi andiamo a parlare di intelligenza artificiale legata alla finanza decentralizzata sto parlando del progetto singularity dao dove al suo interno c'è un pizzico di italia andiamo a vedere come funziona e che cos'è questo progetto pionieristico dopo la sigla nomi altisonanti nel panorama delle cripto valute sto parlando di cardano singolarity network e singolarity dao nel video di oggi come anticipato andiamo a vedere che cos'è questo spin off incubato direttamente da singularity network s dao che cos'è è un fornitore che unisce la defa e quindi la finanza decentralizzata e l'intelligenza artificiale ma questa volta partiamo dal fondo partiamo dal valore del token andando su coin market cap vediamo singolari di dao acronimo s dao a rank 557 e nella watch list di 15.000 834 persone che ovviamente utilizzano come market cap e hanno deciso di metterla nella propria lista dei desideri al momento gira sulla blog cene di ethereum è un valore di mercato nel momento in cui sta registrando questo video di un euro e 96 centesimi con un incremento del 5,64 per cento molto interessante anche il rifornimento massimo totale che equivale a 100 milioni di token cinque mesi fa il 23 maggio 2021 ha raggiunto il prezzo più basso di sempre ovvero 0,32 centesimi di dollari per arrivare poi al 6 settembre 2021 al suo ath di 5 euro virgola 70 centesimi mercati dove possiamo andare ad acquistare singularity dao sono gate.io q coin uniswap the coin e one inch ci tengo a ricordare che questi non sono consigli finanziari e vi invito a fare qualsiasi ricerca autonoma per poi decidere se entrare o meno in un progetto indipendentemente da quello che viene detto è quello che state vedendo e starete per vedere all'interno di questo video e di tutti i contenuti presenti su youtube non solo sul mio canale per acquistare questo token io normalmente mi appoggio a q coin utilizzando eventualmente by nas come processore per per inviare verso q coin verso l'exchange q coin i miei fondi se non avete un account su q coin o su bainas vi lascerò comunque in link in descrizione se avete piacere di unirvi a queste che c'è tramite il mio referral link in alternativa come sempre iscrivetevi in totale autonomia non importa se utilizzerete il mio referral link oppure referral link di un altro o se vi volete registrare da soli supponiamo che abbiate già degli account su q coin e su bainas e cosa dobbiamo fare per acquistare eventualmente s dao ci colleghiamo la pagina di q coin andiamo alla voce mercato sulla voce ricerca andiamo a scrivere s dao e vediamo che al momento è tradabile tramite usdt per acquistare gli estiti potete fare in due modi potete comprarlo direttamente tramite q coin andando a inserire il quantitativo in euro che volete acquistare più a destra dovete scegliere la cripto valuta che volete ovviamente comprare convertire con euro gas di t la selezionate e poi qua sotto scegliete il processore utilizzando visa e mastercard si appoggerà a banca un processore esterno confermando poi l'acquisto vi riporterà sulla pagina ufficiale di banca partner di q coin dovrete completare i form richiesti per poi andare a ricevere gli usdt sul conto di q coin ovviamente l'acquisto verrà effettuato dopo aver superato il che si per quanto riguarda banca in alternativa se avete un account già pronto su bainas potete tranquillamente andare su bainas acquistare i vostri usdt veramente con la carta di credito o carta di debito si va a inserire l'importo da spendere solo vedere quanto si riceverà in usdt si continua anche a cambiare la carta di credo carta di debito qualora una veste di più collegate all'account di bainas poniamo di aver acquistato gli estiti all'interno di bainas e la vogliamo inviare q coin come dobbiamo fare innanzitutto ci rispostiamo su q coin andiamo su asset principale depositi e prelievi andiamo a selezionare gli usdt deposito si aprirà questa schermata e come vedete abbiamo la possibilità di inviare usdt ovvero tether tramite rc 20 che lo sconsiglio possiamo inviarlo tramite la tiern c20 quindi la troncene la kcc cene oppure al garant o eventualmente io se mi pare ormai sappiamo benissimo che bainas permette l'invio di usdt anche la con anche con la troncene quindi la trt rc 20 e quindi non ci resta che far altro che selezionare trc 20 andare a copiare questo indirizzo spostarci su bainas andare su wallet wallet spot attendiamo il caricamento poi si andrà a cliccare su preleva si va a selezionare la valuta di riferimento che vogliamo inviare e come vedete qua sotto ci sono tutte le cene disponibili per l'invio noi andiamo a selezionare la trc 20 perché la stessa cene che utilizzerà q coin per riceverle quindi mi raccomando quando fate questi spostamenti andate a selezionare la stessa cene sia sull'exchange wallet che invia sia sull'exchange wallet che riceve quindi in questo caso trc 20 si va a incollare l'indirizzo che abbiamo copiato prima si seleziona troncene si va a inserire il massimale o una porzione di usdt che vogliamo dedicare e vogliamo inviare a q coin dopodiché si clicca su invio e in pochi minuti riceveremo usdt su q coin con delle fi veramente bassissime una volta che sono stati aggiunti i nostri fondi su q coin si va su mercati si va a selezionare la valuta di riferimento che vogliamo acquistare clicca sopra si apre la schermata di trading a questo punto ci spostiamo in basso se vogliamo acquistare direttamente al mercato andiamo nella parte verde dove c'è scritto compresse da o mettiamo market andiamo a selezionare 100 per cento 75 per cento 50 per cento 25 per cento in base alla site che vogliamo utilizzare per l'acquisto di s da o oppure andiamo a modificare manualmente la quantità di tether che vogliamo spendere per s da o una volta che abbiamo deciso alla montare clicchiamo su compra s da o è in automatico partirà l'ordine come vedete c'è anche il suono che va a indicare che l'ordine è stato eseguito alla voce asset account trading andremo poi a visionare il nostro quantitativo di s da o di qualsiasi alta cripto valuta possediamo all'interno di questo account ma ora rispostiamoci solo un page di singolare di dao e andiamo a vedere che cos'è questo progetto singularity dao in questo progetto su defy finanze decentralizzata e intelligenza artificiale c'è un grande pezzo d'italia infatti il sio di questo progetto è marcello mari che attorno al 2016 2017 si avvicina al progetto singularity net nel gennaio 2021 quindi di recente marcello mari è stato nominato sio di singularity dao un progetto indipendente come abbiamo visto incubato da singularity network che unisce defy ed intelligenza artificiale al momento il nostro connazionale guida un team di circa 35 persone e singolarity dao è ampiamente riconosciuto come uno dei progetti di maggior accesso nello spazio defy è ovviamente molto pionieristico per quanto riguarda l'intelligenza artificiale annessa alla finanza decentralizzata una delle mission più importanti e riuscire a portare l'intelligenza artificiale nella gestione dei portafogli consentendo agli utenti di investire disinvestire in più token o cripto valute tutto in un unico paniere in prodotti che assomigliano agli edge found cercando di fornire al meglio un rapporto di rischio e rendimento rispetto a se noi andassimo a investire in un singolo asset andare a investire in questi fondi con questa diversificazione si va a ridurre il rischio per l'appunto rispetto all'investimento singolo di un crito asset questi panieri questi fondi vengono chiamati dain asset ogni fondo viene e verrà gestito da persone fisiche ovviamente intelligenza artificiale o esattamente la combinazione dei due fattori quindi persone e intelligenza artificiale unite insieme per un unico scopo ovviamente il token s da o oltre a essere parte dell'ecosistema integrante per quanto può riguardare l'investimento per noi utenti è anche un token governance il possesso e la detenzione del token s da o permette alla community di andare a votare sulle modifiche proposte alla piattaforma e può essere anche utilizzato nella piattaforma dei fai esattamente nel farming una volta che vi siete collegati al portale di singolare ti da o in alta destra potete cliccare sul lanci up dopodiché vi collegherete a questa piattaforma tramite ad esempio il vostro metamask e vedete in alta destra c'è una parte del mio address e si atterrerà alla singolare ti da obietà dove possiamo andare a vedere come lavora lo swap il provide liquidi lo yield farming lambondi e in bondi ed è più sotto ci sarà anche il launch pad annesso ei dynaset ovviamente questa come vedete è in versione beta possiamo acquistare s da o direttamente all'interno di questo swap utilizzando il processore interno lo sconsiglio perché al momento appoggiandosi comunque al tiro per ora è abbastanza caro consiglio sempre di acquistare s da o per il momento come abbiamo visto all'inizio di questo video alla voce provide liquidi che noi possiamo andare a fornire liquidità per far funzionare l'intero ecosistema possiamo andare a fornire s da o e tirio magic e tirio s da o e sdt agi che usdt possiamo poi utilizzare gli al farming per andare a farmare s dao farò poi vedere come funziona tutto questo ecosistema questa applicazione nei video successivi anche perché mi sta venendo veramente un video comunque molto lungo nella sezione yield farming possiamo utilizzare i nostri lp token per andare a farmare s da o abbiamo le pull s da o e tirio magic e tirio s da o sdt agi che usdt dove vediamo le relative reward variabili andando più sotto abbiamo lo steak non vincolato quindi dove non abbiamo vincoli di tempo e lo steak vincolato come vedete lo steak vincolato tre mesi api 35 per cento se andiamo a vedere lo steak non vincolato su s da o pull flessibile 18,33 per cento per chi volesse essere in contatto con la community con gli sviluppatori e presente anche un gruppo telegram ufficiale internazionale e anche un gruppo ufficiale italiano vi lascerò tutti i link in coda a questo video singolare ti da o è solo uno dei progetti più interessanti di questo network perché poi avremo in seguito degli archivi decentralizzati assistenza sanitaria con intelligenza artificiale contenuti multimediali decentralizzati e vari progetti ancora che devono essere annunciati soprattutto anche grazie all'arrivo del loro launchpad potranno essere gli incubatori dei progetti block chain con annessa intelligenza artificiali che si espanderà a macchia d'olio in diversi settori bene siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento vi ringrazio per l'attenzione e come sempre spero che il video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiata ancora fatta da unire la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi di commentare i miei video e lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di youtube noi ci vediamo domani ciao a tutti